Volevo solo fare una piccolissima addenda ed è questa. Internet, spesso si parla di internet, internet è solo uno dei fenomeni provocati dalla rivoluzione digitale, dalla digitalizzazione. Se non c'è internet le cose vengono scambiate come le figurine. Oggi non ha avuto ancora successo un oggetto che si chiama ultra-wideband che consente di scambiarsi tra due telefonini un film DVD in pochi secondi. Perché la gente lo fa su internet. Chiudiamo internet su questo. Questo è un epifenomeno. Attenzione alle leggi delle conseguenze inattese. Cioè è la tecnologia che va in quella direzione. Forse, comunque mi è piaciuto molto l'intervento di Marco Pierani, ovviamente sottoscrivo due delle tre gambe, sono quelle di Dimin, a cui ho partecipato, per cui sottoscrivo. Dino Bortolotto, c'hai i suoi tre minuti? Tre minuti? Non dovevano essere sei. Allora, credo che... Mi asterrò dal rispondere alle provocazioni di Enzo Mazza e di Davide Rossi. In realtà, provocazione per provocazione, visto che questo mi pare essere il tavolo delle provocazioni, io dico che questo è un paese dove il liberismo è stato tradito. È stata tradita la libertà di produrre, la libertà di diventare imprenditori. E quindi esistono due tipologie di imprenditori in Italia. Vi sono gli imprenditori che hanno rendite da posizione e sono coloro i quali hanno paura dell'innovazione. Perché non è solo la vecchietta che ha paura dell'innovazione. Ha paura dell'innovazione l'azienda che ha una rendita di posizione e vuole continuare con il minimo sforzo a mantenere tutto l'utile che può ricavarne. Quindi, fatto chiaro su questo, dobbiamo chiarirci come mai questo è un paese dove a parole ci si dichiara liberisti, ci si dichiara a favore delle piccole e medie aziende e poi siamo pieni di norme che sono l'esatto contrario. Quindi una cosa è quello che diciamo a parole e un'altra cosa è quello che facciamo nei fatti. Vado con esempi semplicissimi. All'inizio avete parlato dell'identità digitale e di chi utilizza la firma digitale. E io vi domando, voi sapete che cosa è successo in Italia della posta elettronica certificata? Che dopo aver partecipato, tra altre cose impegnandoci e anche risolvendo alcuni bachi nella fase sperimentale, qualcuno ha inventato una normativa che prevedeva che il capitale sociale necessario, minimo, per poter fare l'operatore di posta elettronica certificata doveva essere un milione di euro. Questo che correlazione ha con la libertà d'impresa? Ve ne dico un'altra. Dentro la normativa, mi basteranno, Dentro la normativa italiana delle comunicazioni, il famoso allegato 10, è presente un diritto amministrativo. In pratica, se voi volete fare il provider e volete tirare anche solo un metro di fibra tra voi e il vostro cliente, dovete pagare 27.750 euro all'anno. A fronte di che? Di niente. Secondo voi questo aiuta un giovane imprenditore a fare l'imprenditore? No, questo vuol dire che abbiamo un paese dove la libertà di produrre, la libertà di fare l'imprenditore è profondamente tradita. E vengo al punto della provocazione. Perché, vedete, non ci sono solo le normative di questo tipo, ma vi sono anche, io sono perfettamente d'accordo sulla tutela dei diritti d'autore. Un furto è un furto, che sia analogico o digitale. Però non mi sono, e chiaramente sono contrario ai furti a casa mia, ma non mi sono mai inventato di obbligare i miei vicini di casa a far la guardia a casa mia. E quello che sta accadendo è che qualcuno, per tutelare legittimamente i suoi diritti, va a generare danni collaterali su altre aziende. Non mi pare corretto. Oltretutto, i danni collaterali, guarda caso, vanno a finire sulle piccole e medie aziende, non su quelle grosse, che non hanno minimamente problemi. Perché, vedete, se io devo fare deep packet inspection, mi ritrovo immediatamente a dover fare un paio di milioni di euro di fatturato per poter reggere le spese fisse che questo mi introduce. Secondo voi, questa cosa qui, a un operatore grosso gli fa un bafo? Invece a me no, ci uccide. Vuol dire che, in pratica, è la libertà di produrre, che io sia un utente che voglio produrre contenuti, che io sia un giovane imprenditore, che io sia una piccola e media azienda, che poi tutte le ricerche stabiliscono che l'innovazione viene fatta dalle piccole aziende e non dalle grandi, e quindi coloro i quali hanno paura dell'innovazione e quindi hanno posizioni di baronaggio, sono coloro i quali stanno ostacolando l'innovazione in Italia. Mi permetto di fare un'ultimissima notazione e di rammentare che siamo usciti dal medioevo, quando praticamente, se voi nascevate figlio di calzolaio, dovevate fare il calzolaio e se eravate invece un coltivatore, il coltivatore, quando è diventata la prima libertà che è stata espressa è quella di scegliersi la professione che si vuole fare, che cosa si vuole produrre nella vita. Quello è stato il passaggio dal medioevo alla nostra società civile. E qui, a secoli di distanza, ci ritroviamo ancora a dover combattere per poter riaffermare questo diritto. Grazie, Dino. Mi prendo... No, 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 no. E scusatemi, c'è una cosa fondamentale che non sapete, perché i giornali non ve la scrivono, che la Next Generation Network si può fare in un modo completamente diverso da quello che vi viene propagandato. E' possibile fare... Il TCPP ha aperto il vaso di Pandora, la rete di telecomunicazione non è la costruzione di una diga, Non serve un unico soggetto monolitico che ha un investimento colossale, è possibile farla per somma di infinite piccole reti, con piccoli finanziamenti e funziona perfettamente.